Ciao a tutti, benvenuto al mio canale. In questo video vi farò vedere come si cambia indirizzo e documento associato allo speed di posta. In particolare vi farò vedere come si cambia la data della scadenza di carta dignità. A causa del covid la scadenza della carta dignità è stato prolungato, quindi basta cambiare la data di scadenza per continuare a usare lo speed. La data di scadenza sarà prolungato fino al 30 aprile di quest'anno. La prima cosa da fare è aprire il sito di speed di poste. Vi lascerò il link qui sotto. Cliccate su accendi. Procedete con login di speed. Una volta effettuato il login trovate questa pagina. Andate a cliccare su i tuoi dati in alto e qui vedete i vostri dati, i vostri indirizzo. Cliccate su modifica e cliccate su i tuoi dati. Qui appare il documento e indirizzo e potete modificare da qui. Dopo aver modificato cliccate salva. L'operazione sarà fatta. Questo non è una cosa immediato quindi dovete aspettare qualche ora o magari anche qualche giorno. Questo dipende dal sistema di speed di poste. Io vi dico la mia esperienza. Io ho modificato la mia data di scadenza di carta dignità. Dopo neanche mezz'ora me l'ha confermato. Come ho fatto a sapere? Perché ho ricevuto un'email di conferma. Ok per questo video è tutto. Grazie per la vostra visione. Grazie a tutti. Alla prossima. Ciao ciao.